Cominciamo questo secondo incontro di una rassegna di Lepida SCPA, rassegna cura della Fondazione San Carlo. La rassegna ha un titolo particolare, futuro prossimo per un lessico del domani. Nel titolo abbiamo cercato di riassumere l'obiettivo, di provare a interrogarci su quelli che sono gli ambiti, i temi fondamentali per provare a definire strategie e trend per il futuro, attraverso l'occhio delle telecomunicazioni, dell'economia della conoscenza e tutto ciò che ruota anche attorno alle attività della stessa società Lepida. Il tema di oggi è un tema importante, insieme a noi per i saluti iniziali c'è il direttore generale di Lepida Gianluca Mazzini e collegato un ospite per noi, altrettanto importante, non soltanto per il tema di oggi ma per quello che sta accadendo in questi giorni, Dario Fabri, analista geopolitico, giornalista, curatore tra l'altro del nuovo mensile Scenari, mensile di geopolitica di domani. Avevamo chiamato Dario Fabri per parlare insieme a noi di geopolitica della rete, il governo di internet e l'instabilità internazionale. Lo faremo, cercheremo di farlo, ma soprattutto insieme a lui cercheremo anche di interpretare questo tema alla luce di quello che sta accadendo proprio in queste ore e in questi giorni. Nella speranza, lo diciamo anche da questa sede, da questo palco, che la diplomazia possa presto sostituirsi ad altri strumenti per la soluzione della crisi ucraina. Detto questo, il tema di oggi è importante perché nell'esercizio del controllo del potere, dello stare insieme degli esseri umani, l'informazione e internet sono diventati uno strumento essenziale e giornalmente parte di quella che è il nostro agire non soltanto dal punto di vista professionale, ma sotto tutti i punti di vista. Quindi il tema delle infrastrutture, delle piattaforme, l'esercizio delle censure, della libertà, la diffusione di false notizie, l'esercizio dell'egemonia anche culturale di un paese, di una cultura, passa attraverso anche quella che è l'analisi della geopolitica della rete e il governo di internet e dei suoi processi. Per questo abbiamo pensato che fosse fondamentale affrontare questo tema e mi fa davvero piacere poter far sì che il saluto alla sessione di oggi possa essere fatto proprio da Gianluca Mazzini, il direttore generale di Lepida. Lascio a lui dire cos'è Lepida e quindi perché è importante affrontare questo tema insieme a loro in questo contesto. Grazie di nuovo, a te la parola Gianluca. Grazie tantissimo. Lepida è una società con 445 soci, tutti pubblica amministrazione, quindi ci troviamo davanti quotidianamente a capire quali sono i bisogni delle persone tramite i nostri soci e quindi quali sono i bisogni non tanto della pubblica amministrazione ma degli utenti della pubblica amministrazione e in questo dobbiamo costruire sempre un percorso di innovazione. Innovazione per noi è fondamentale per rimanere vivi, per costruire nuove filiere ma anche per interrogarci se quello che stiamo facendo è corretto e come possa essere migliorato. Alcuni esempi proprio per venire ai problemi di oggi. Uno di questi sono i protocolli di rete, ce ne sono tanti di protocollo di rete e dopo una lunga sfida negli anni 90 ha vinto il TCP IP. Oggi noi siamo abituati a lavorare su IP versione 4, sono un po' di anni che si parla di IP versione 6 e proprio nei paesi emergenti, fra cui anche quelli in guerra in questo momento, c'è stato un ingresso sempre maggiore di questo internet versione 6. È il protocollo finale, si va verso questa direzione e soprattutto possiamo navigare tutto in maniera neutrale oppure in questo momento dobbiamo iniziare a fare un certo numero di selezioni dei paesi, dei luoghi e anche dei contenuti. Oggi noi siamo davanti a un concetto di neutralità spintissimo, l'Europa ci ha sempre portato verso la neutralità. Chiudere la neutralità vuol dire cambiare proprio un modo di pensare. Personalmente faccio un po' fatica a non essere neutrale perché ho sempre cercato di costruirlo, però a volte bisogna prendere delle posizioni. Altro scenario velocissimo, le riti 5G. Proprio in questi giorni in Emilia-Romagna stiamo spegnendo i canali a 700 MHz per liberare la televisione, canali televisivi a favore di una tecnologia che gli utenti usano maggiormente, soprattutto che i giovani usano maggiormente, quella del 5G. Oggi si chiama 5G, ieri si chiamava 4 e domani si chiamerà 6G. Questo è dove stiamo andando. E qui troviamo una via di mezzo fra fastidio e bisogno. Guardate, il fastidio e il bisogno di una torre. Una torre brutta ma senza la torre non mi connetto. Una torre ci può permettere di vedere la televisione, ma se non c'è non ci può permettere. Io ricordo durante lo switch off che avemmo nel 2011 che c'erano dei comitati che dicevano no alla torre, abbiamo tolto la torre e quello stesso comitato diventava sia la televisione, perché senza torre non c'era televisione. E a volte queste correlazioni, anche molto banali, ma purtroppo tecniche, sono difficili da cogliere. Ultimo elemento su cui una riflessione credo che sia necessaria è la cyber security. A luglio abbiamo avuto un blocco enorme della regione Lazio, non era mai successo una situazione di questo tipo. Improvvisamente tutti ci siamo chiesti che cosa stava succedendo e che cosa sarebbe successo a noi come pubblica amministrazione. Quindi il livello di attenzione si è alzato enormemente per cercare di capire che cosa avremmo dovuto fare. E qui ci hanno spiegato che nel dark web c'era una serie di informazioni che noi non pensavamo neanche potessero esistere su di noi, su quello che stava avvenendo. E quindi anche una serie di nuove filiere. Ecco, tutto questo porta a dover ripensare i processi e il modo di lavorare. La pubblica amministrazione cerca di lavorare in una maniera diversa, deve lavorare in una maniera diversa soprattutto unendo pubblico e privato insieme. Un ultimissimo pensiero un po' per chiudere. Io nella vita non lavorativa faccio il radiamatore, cioè mi metto davanti a una radio e connetto delle persone che stanno nel mondo. E in questo momento ho un imbarazzo. E l'imbarazzo è quando sento un cittadino russo e un cittadino ucraino se posso connetterli liberamente come l'ho sempre connessi prima. E non è un problema legislativo, lo posso connettere, è un problema morale. Il problema è che queste persone per me sono amici e sono sempre stati amici. Faccio molta fatica a separare la parte della guerra in corso e della presa di una eventuale posizione al fatto che di là ci sono delle persone che per me sono amiche. Grazie Gianluca. Quest'ultimo riferimento credo che sia il modo migliore per poter passare al collegamento con Dario Fabri. Dario si collegherà con noi da moto. Lo ringrazio di essere qui con noi attraverso internet. Considerato l'impegno che in questi giorni sta dimostrando per provare a spiegarci quello che sta avvenendo e quali sono le ragioni per cui siamo di fronte anche a un conflitto di questa misura e con lo sconcerto da parte di molti di noi e anche rispetto a quello che è accaduto e sta accadendo. Io credo che la cosa migliore sia provare insieme a Dario affrontare il tema di oggi provando a capire come questo tema si intreccia e sta vivendo nel conflitto anche nella crisi ucraina. È anche il modo migliore per ringraziare Dario Fabri al quale passo la parola, il suo intervento, il suo approfondimento su un circa una mezz'oretta e questo ci consentirà di avere un po' di spazio per interlocuire con lui perché alle 18.30 deve staccare per continuare le attività che ha programmato e quindi davvero un grande ringraziamento per la disponibilità dimostrata. A te Dario la parola. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Mi dispiace non essere lì da voi. Purtroppo come raccontavate, nel frattempo ce n'è anche da spiegarlo, sono successe delle cose, quindi ahimè ho dovuto scegliere di partecipare soltanto da remoto con voi, per cui non vi rubo altro tempo con l'introduzione, anzi vado direttamente al solo visto che abbiamo questa mezz'ora circa da parte mia per raccontare gli elementi che voglio poi discutere nella seconda parte con chi è presente attraverso le sue valutazioni, domande eccetera. Oggi per me è l'occasione di parlare dei dati del governo di internet o dell'instabilità mondiale legata ai dati, che è un argomento che anche in un momento come questo, in cui c'è una guerra in corso così convenzionale come può essere rappresentata l'attuale aggressione russa ai danni dell'Ucraina, anche tutto ciò che è cibernetico che riguarda i dati pare essere dietro le quinte, pare essere stato superato dagli eventi, in realtà il discorso è molto diverso perché comunque i dati si inseriscono in qualsiasi questione attraverso una loro evidente importanza e anche qui non possiamo sottovalutarli. Proviamo a sgombrare il campo, io non mi occuperò oggi di guerra cibernetica con voi, innanzitutto perché voto banalmente non è l'argomento principale di questo nostro incontro. Seconda ragione perché la guerra cibernetica non è così importante, perché può sembrare controintuitivo dirlo oggi, ma va molto di moda la guerra cibernetica. Gli attacchi cibernetici vengono raccontati perché sono affascinanti, non guardano vecchi film di qualche tempo fa che andavano in onda negli Stati Uniti e altrove, ma non sono così decisivi in assoluto, anzi. Certo possono costituire un danno, possono fare molti danni, questo sì, ma non sono capaci di consentire ad un attore di vincere la guerra, questo no, questo è impossibile. Certo possono disorientare il nemico, possono bloccarlo, ma non possono garantire la vittoria in assoluto. Ma qualcuno potrebbe obiettare, beh, in realtà se tu blocchi una centrale elettrica e quindi lasci al buio l'intero paese, poi diventa complesso per il paese in questione reagire, anzi dovrebbe almeno mediamente arrendersi. Ma avrete notato che finora nessuno è mai arrivato a questo livello di applicazione della guerra cibernetica, che pure può essere considerato possibile, attenzione, ma perché? Perché gli elementi cibernetici sono molto semplici da gestire. Cioè la guerra cibernetica livella il potere militare delle varie potenze, cioè se tra Stati Uniti e il soggetto X c'è un enorme divario a livello di guerra convenzionale e anche nucleare, immenso divario, sul piano cibernetico quel divario è molto più ristretto, perché gli elementi cibernetici costano poco, sono facilmente impiegabili e dunque si evita l'extrema razio di distruggere una rete che so elettrica o nucleare di un paese, distruggere si intende paralizzarla, attraverso un attacco cibernetico perché poi si sa che anche quel soggetto o un altro soggetto di piccolo capotaggio può attaccarci con la medesima misura, proprio perché l'attacco cibernetico è un attacco che costa poco e si impiega in poco tempo. Quindi non parleremo di tutto questo oggi. Ciò di cui parleremo oggi è il potere dei dati, a che cosa servono, chi li gestisce, a chi appartengono e come sono collegati alla rete globale. È un argomento che si interessa anche della guerra in corso. Anzitutto proviamo a dire che i dati che vengono raccontati come l'oro del nostro secolo sono sì una miniera, sono un tesoro assoluto, ma, se questo ci può tranquillizzare, ma tra un po' ci arriveremo, si incontra ancora nelle varie intelligenze internazionali difficoltà di interpretarli. Non sul piano tecnico, esistono algoritmi che poi li fanno catalogare, dei quali poi riescono ad estrarre caratteristiche che possono essere modulate altrove, ma sul piano geopolitico, cioè analizzare un dato poi richiede inevitabilmente a di là della sua classificazione matematica una mente umana che sia possibilmente istruita sul piano geopolitico, che abbia uno strumentario geopolitico strategico per analizzare i dati in questione. e questo ancora non è diffuso in senso assoluto nelle varie intelligenze, ma ci arriveremo, facciamo un passo indietro. Anzitutto di quali dati stiamo parlando? Dobbiamo chiarire immediatamente questo. Esiste un'intelligenza economica, ma esiste anche un'intelligenza strategica. I dati di cui discuteremo oggi sono i dati che i social network forniscono ai vari governi. Social network che li conosciamo tutti, li utilizziamo tutti, immagazzinano dei dati a miliardi e miliardi, anzi a trilioni e trilioni e trilioni ogni ora, e poi li devono collocare, stoccare in un server specifico nel quale si accede, qualcuno accede a questo server per studiare i dati in questione. Mediamente i dati vengono studiati, dicevamo, per l'intelligenza economica, che è la gestione più semplice, quella a cui siamo tutti sottoposti. Quindi noi navighiamo in un sito specifico, cerchiamo qualcosa di specifico e il giorno dopo, quando entriamo in un sito, la pubblicità, o anche in un social network, la pubblicità che vediamo è stata tarata su cui la nostra ricerca ci sottopone, ci suggerisce un elemento similare a quello che abbiamo cercato lo stesso, se non l'abbiamo ancora acquistato. Fin qui ci siamo un po' tutti. Questo è un utilizzo classico che si fa dei social network e dei dati che provengono dai social network. L'altro utilizzo che se ne fa però è molto diverso, è un utilizzo dovrebbe esserlo almeno di portata strategica e qui le cose voi immaginate si complicano. Un passo indietro, i social network non sono, e le multinazionali che li gestiscono, non sono soggetti a sé. Uno dei grandi miti del nostro tempo, perché noi siamo satellite di un impero e qui che ha una sua statualità ridotta, già l'Italia ce l'ha storicamente, ma in più in quanto satellite degli Stati Uniti ancora di più, non abbiamo l'impressione, quindi questo ce lo raccontiamo, ci piace, ci diverte, che a decidere poi le cose del mondo siano le multinazionali. Quindi la multinazionale X si impone sul governo Y non è per noi la normalità. Dipende quale e quale governo la multinazionale americana si impone sul governo italiano, questo sì, ma la multinazionale americana non può imporsi sull'amministrazione statunitense, è vero o contrario. Così come non lo può fare il potentato economico cinese su Pechino, così come Gazprom non può imporsi sul Cremlino. Dipende molto dal contesto evidentemente. Che soggetti sono i social network? Che social network sono degli gestori di tecnologia, nient'altro, che hanno gestito in maniera geniale una tecnologia che non appartiene loro, l'hanno rivestita di marketing e hanno sviluppato le declinazioni di questa tecnologia in maniera eccezionale. Ma la tecnologia di cui stiamo parlando non appartiene ai social network, né appartiene ai grandi produttori di tablet o computer o smartphone. Insomma Steve Jobs non era un inventore, non ha inventato lui il microchip, non ha inventato lui il processore del computer, non ha inventato lui neanche Siri, il riconoscimento vocale. È un grande gestore geniale di tecnologia che proviene d'altrove. Da dove proviene la tecnologia che ha a disposizione dei social network e delle catene di computer è stata prodotta tutta quanta in ambito militare. Tutta. Quindi tutta la tecnologia di cui dispongono i social network e le aziende di computeristica e di massima tecnologia americana è una tecnologia prodotta in ambito del Pentagono. inizialmente dall'ARPA, che era il dipartimento per l'innovazione e la ricerca all'interno del Pentagono, successivamente in tutto il ministero della difesa e poi nel DARPA, come adesso si chiama, il medesimo ufficio. Di quale tecnologia parliamo? Anzitutto di quella che stiamo utilizzando adesso per parlarci noi, internet e al cenote. È stato inventato nel Pentagono, all'epoca si chiamava ARPANET, appunto. Lo stesso nome, immagino vi siate interrogati, perché internet è un nome controintuitivo, significa rete interna. Internet, ovviamente, inter è una preposizione latina che viene utilizzata in questo caso. Non significa nient'altro che va a cozzare, ne sarete conto, con la tripla W che introduce qualsiasi indirizzo internet, che è World Wide Web. Quindi la grande vasta rete del mondo, World Wide Web, è esattamente il contrario dell'internet, cioè delle intrarete. Ma perché intrarete? Perché internet nasce come rete interna al Pentagono. Cioè era stata pensata come una rete per comunicare dentro il Dipartimento della Difesa statunitense affinché non fosse intercettata dai sovietici in piena guerra fredda. Così nasce la tecnologia che noi stiamo utilizzando adesso per comunicare, la tecnologia che è stata sviluppata in ambito militare dal Pentagono per non farsi soffiare le informazioni dai sovietici. Né più, né meno. Così ancora, il microprocessore viene sviluppato anche questo insieme al Pentagono e viene utilizzato per gli armamenti, per direzionare gli armamenti. Anche la tecnologia del telefono cellulare viene pensata dentro il Pentagono. Il primo a rispondere ad un telefono cellulare è il generale Schwarzkopf durante la prima guerra del Golf. Potremmo proseguire Siri, il riconoscimento vocale viene sviluppato internamente al Pentagono. Perché questo conta nella gestione dei dati? Perché a noi, ripeto, sembrano grandi inventori, ma i proprietari tanto dei social network quanto dei device nella loro produzione sono consapevoli di non avere sviluppato loro la tecnologia. Cioè sono consapevoli di utilizzare una tecnologia che è stata importata e che è stata consegnata loro soltanto per essere gestita. Perché conta di nuovo? Cioè sanno molto bene che nel momento in cui il Pentagono sviluppasse una nuova tecnologia, loro potrebbero non riceverla. Cioè il Pentagono la potrebbe appaltare ad altre aziende, ad altre società, lasciando all'oscuro da questo punto di vista le multinazionali americane che oggi gestiscono la tecnologia vigente. Ma dal momento che il DARPA, l'ufficio per l'innovazione e la sperimentazione del Pentagono, è sempre in fermento, per il semplice motivo che è il luogo dove si spendono più soldi per la ricerca al mondo in qualsiasi ambito, ancora oggi il Dipartimento della Difesa americana spende più del doppio in ricerca di quanto non facciano i privati statunitensi. Fare la pena anche ricordare che il Pentagono, il Dipartimento della Difesa, è il più grande datore di lavoro del mondo. Quindi siamo davanti a questo tipo di grandezze, altro che multinazionali che si impongono sullo Stato, e quindi la gestione della tecnologia diventa parziale, perché la tecnologia non appartiene a chi la gestisce, che non è un inventore. Zuckerberg non ha inventato internet, ha inventato un'attuazione di una parte di internet, che non è appunto un'invenzione, è una modulazione di essa. Si sviluppano i social network in un contesto come questo, cioè iniziano a gestire una tecnologia che non appartiene loro e che gestiscono più o meno in libertà. In che modo? Da un lato vendendo i device, come si dice, cioè le apparecchiature che conosciamo, ma soprattutto attraverso i social network. Che cosa sono i social network? Sono, da un punto di vista strettamente strategico. Un luogo dove spontaneamente gli esseri umani, in tutto il mondo, raccontano di sé gratuitamente. L'avverbio è molto importante, perché l'intelligence umana, che è la branca principale dell'intelligence, cioè quella con cui si studiano le popolazioni, e quindi nella consapevolezza che a determinare l'azione dei governi sono le popolazioni, i governi nessuna espressione, dalle dittature alla democrazia, un tempo l'intelligence umana era costosissima e rischiosissima. Cioè io per capire che cosa succedeva in una nazione specifica, lavoravo in un'intelligence, dovevo calarmi nella nazione, farlo sotto copertura, andare ad intervistare persone che fossero estremamente coscienti di quello che capita o che rappresentassero qualcosa. Quindi con tutti i rischi e gli errori che in questo, tutto questo poteva generare, oggi tutta questa mole di informazioni moltiplicato per miliardi e miliardi arriva gratuitamente all'analista. Cioè l'analista della Cilia o dell'intelligence russa o dell'intelligence cinese, o fate voi, ha a disposizione una mole immensa di dati, cioè di informazioni personali, di miliardi di persone gratuitamente, senza aver rischiato niente e senza aver speso niente. Cioè siamo noi che spontaneamente raccontiamo tutto quello che ci frulla per la testa, lo mettiamo sui social network e qualcuno va ad analizzarlo. È quella che si chiama ovviamente la profilazione di massa. Quindi si prendono i dati, li si mettono insieme attraverso un algoritmo che poi li va a scindere, cioè dice questo va con questo e questo con quell'altro e si prova a capire che cosa. Quelli che sono i megatrend, cioè le tendenze principali che si registrano in una società. Sul piano economico le possiamo intuire, è della parte più semplice, con cui peraltro i social network guadagnano, perché non è guadagnano con la seconda parte tra cui tra poco arriveremo. Ma sul piano strategico che tipo di informazioni, che cosa si va a cercare, che cosa si vuole trovare dentro questa enorme mole di dati, perché questo è l'altro punto su cui concentrarsi. Si vuole capire che tipo di tendenza attraversa e una specifica società. Cioè, facciamo un esempio. Nel momento in cui mettiamo sui social network che cosa? Un'attitudine, un'attitudine alla maternità, quindi stabilire che propensione c'è a fare figli in una specifica società. Un'attitudine nei confronti della guerra, che attitudine c'è al sacrificio, a lanciarsi in guerra. Che attitudine si registra ai sacrifici economici, alle restrizioni economiche. Ancora, che atteggiamento c'è verso un tipo di ideologia o un'altra. Questo modo si può distinguere se una società è in dimensione storica o postorica, se viaggia verso la potenza oppure è destinata a rimanere satellite per sempre, se militarista o meno, se crede a questo o a quell'egemone, eccetera. Questo è l'elemento strategico dei dati, che un analista deve sapere estrapolare dalle grandezze che poi vengono messe a disposizione attraverso i social network. network. Di qui il patto con gli stessi social network. Esattamente il patto tra i social network e l'amministrazione americana, ad esempio. Perché l'amministrazione americana? Perché i social network americani sono quelli chiaramente più diffusi al mondo e che vengono maggiormente utilizzati in giro per il mondo. Se noi vediamo la mappa dei social network, scopriamo facilmente attraverso la loro diffusione quale parte del pianeta sta con chi. Cioè i social network americani, che sono quelli che conosciamo da Facebook, passando per Skype, oppure tutti quelli che volete, Whatsapp, Instagram, ci possiamo mettere dentro Twitter, tutti i social network che vi vengono in mente, sono diffusi, in quanto americani, soltanto nello spazio di pertinenza geopolitica degli Stati Uniti. Cioè in Russia Facebook si usa molto poco. In Cina è bandito. Ci sono anzi le versioni locali, autarchiche, potremmo dire, di questi social network. Il Facebook russo, ad esempio, si chiama Becontact. Così come c'è il Twitter russo, così come c'è il WeChat, che è il Whatsapp cinese, potremmo proseguire, c'è il Twitter cinese, il Facebook cinese, e così via. Cioè i paesi che sono antagonisti degli Stati Uniti non accettano i social network sul loro territorio. Perché? Perché vogliono evitare quello che abbiamo detto poco fa, cioè che spontaneamente i loro cittadini, quindi cinesi o russi, forniscano gratuitamente agli analisti americani tutto ciò che c'è di loro, così che gli analisti americani lo possano estrapolare, studiare per capire dove va, verso dove è diretto quel paese in questione. E anche quei paesi che non sono in grado di sviluppare un loro social network, comunque vietano, se sono antagonisti agli Stati Uniti, si intende, sul loro territorio la presenza di social network americani. Questa distinzione che appare subito e immediata su una mappa, segnala proprio questo. Che i social network non sono un elemento neutrale, che anzi vengono utilizzati da questa o da quella potenza per racimulare informazioni. Quando ad esempio Facebook voleva espandersi in Cina, che ci ha provato a lungo, e anche in Russia, dove comunque si trova formalmente, la prima richiesta di governi locali era quella di dire che è benissimo, ma il server dovete lasciarlo qui sul nostro territorio. Non potete portarlo in giro, perché anche noi, esattamente come l'amministrazione americana, dobbiamo avere la capacità di pescare all'interno e vedere i dati. Cioè il rischio per un paese antagonista degli Stati Uniti come la Russia o la Cina, o l'Iran o la Turchia, sebbene la Turchia abbia che i social network occidentali, il rischio è che gli analisti americani conoscano meglio i cittadini russi di quanto non li conosca il Camelino. Sì, i cittadini russi me ne era spontanea trasferiscono i loro dati o i loro pensieri ai social network statunitensi. Ed è qualcosa di intollerabile evidentemente per la Russia. Della ragione per cui i paesi, ripeto che sono nemici, avversari, chiamateli un po' come volete, degli Stati Uniti, respingono sul loro territorio i social network in questione. Sono peraltro coscienti di quale sia il patto, l'accordo, il compromesso tra l'amministrazione americana e i social network. Il compromesso è molto semplice. Noi, cioè l'amministrazione americana, vi lasciamo utilizzare la tecnologia che nasce in seno al Pentagono, soprattutto non vi applichiamo una stringente legge sulla privacy, che semplicemente metterebbe fuori legge tutti i social network. Se ci fosse una stringente legge sulla privacy, Facebook non potrebbe utilizzare in nessuna maniera le informazioni che lasciamo spontaneamente, perché se noi quando ci scriviamo al social network leggessimo quel papier lunghissimo che è il contratto iniziale, scopriremo molte cose, perché è tutto nero su bianco. Scopriremo che tutto ciò che mettiamo di noi, dalla foto più intima a quella a cui siamo più legati, da quel momento non ci appartiene più. C'è proprio scritto. Cioè Facebook lo può utilizzare come vuole, girandolo a terzi. I terzi sono sia società di marketing, per cui vedete poi gli spot, le pubblicità che appaiono tramite algoritmo tarate sui vostri gusti, ma anche agenzie di intelligence, quelle americane. E qualora il Parlamento americano applicasse invece una legge sulla privacy molto stringente, ciò che impedisse ad esempio ai social network di utilizzare come proprie le informazioni che noi mettiamo su di loro, cioè se ad esempio imponessero che quelle informazioni non possono essere toccate perché appartengono comunque a chi le ha espresse, la vita ai social network finirebbe, perché la profittabilità, come si dice con un termine orrendo, preso dall'inglese, cioè la capacità di macinare utili di queste società verrebbe meno, molto semplicemente. fatto. Allora il patto qual è? L'amministrazione politica dice a social network, noi non vi applichiamo, pardon, una legge sulla privacy molto severa, ma possiamo poi pescare liberamente dal vostro server, perché poi noi da quei dati facciamo una profilazione di massa, li studiamo e vediamo dove vanno i vari paesi in cui siete insediati. Questo è il patto non scritto, ma evidente, e che questi soggetti dipendano, prezzo che interamente, dall'amministrazione americana, dimostrato da diversi fattori che vanno a sfatare quell'assunto bizzarro per cui sarebbero questi a comandare, cioè Facebook comanderebbe sulla parte politica, così come WeChat comanderebbe sulla parte politica cinese. Qualcosa che è semplicemente impossibile. Se noi infatti andiamo a vedere i dati annuali delle spese in lobbying, sapete che il lobbying negli Stati Uniti è legale, vanno anche diffusi i compensi che ricevono le società di lobbying da parte dei loro clienti, scopriremo che da un po' di anni i social network sono diventati i soggetti che più spendono il lobbying negli Stati Uniti. Che significa? Significa che sono i soggetti che versano la maggior quantità di denaro in favore delle società di lobbying affinché queste ne perseguano gli interessi in seno al Parlamento, al congresso americano. Che tipo di interessi? Cioè evitare scongiurare che il congresso approvi quella legge sulla privacy di cui dicevo, o anche qualcos'altro. Ad esempio che ne possa insediare, attraverso un'altra legge specifica, la posizione dominante. Quindi possa intervenire come antitrust nei confronti di queste società, qualcosa che peraltro quando le cose si mettono male, il congresso americano minaccia nei confronti di questi giganti. Quindi già abbiamo un elemento che ci dice dov'è il rapporto di forza, perché sono noi due a defidarvi di quello che vi ho raccontato all'inizio, ma questi dati che sono pubblici, che potete tranquillamente intercettare, ci raccontano. Cioè quanto si spende il lobbying segnala il timore che si ha dell'autorità politica in questo caso, perché potrebbe intervenire a svantaggio sul business, come dicono quelli davvero bravi, dei social network. Da che altro si vede questa sudditanza? Perché ripetiamo, da cosa nasce? Soprattutto perché la tecnologia appartiene allo Stato federale. Secondo perché lo Stato federale può intervenire con una legge drammatica sulla privacy. Terzo perché siamo dentro un impero dove lo Stato è più forte delle singole imprese inevitabilmente. Ma c'è un episodio plastico che racconta ciò che stiamo dicendo. Vi ricordate qualche anno fa, nemmeno tanti, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si tolse per una volta la felpa con il cappuccio che lo contraddistingue e si mise a giacca e cravatta e andò al Parlamento americano, al Congresso, in un'audizione drammatica di cui fu grigliato, come si dice nel gergo politico statunitense, cioè gli furono chieste informazioni su che cosa. è lo scandalo di Cambridge Analytica, cioè si era scoperto che Facebook aveva ceduto informazioni, cioè i dati riguardanti gli utenti, ad una società inglese che analizza i dati stessi ma doveva farlo per intelligenza economica e basta, invece questi ne hanno girati, ma si è capito se per ingenuità o per dolo, a interlocutori russi. Quindi ciò che veniva imputato a Facebook era di aver messo il profitto sopra l'interesse strategico americano, lasciando che dati sensibili, come sono tutti i dati degli utenti, arrivassero in mano russa. Quindi siamo anche nell'attualità dei fatti di questi giorni. Fu dunque convocato il Parlamento Zuckerberg, gli fu chiesta informazione e se avete delle immagini, si trovano facilmente su YouTube, potrete riconoscere in quale condizione di difficoltà si trovasse Zuckerberg in un incontro come quello. Cioè quanto fosse in difficoltà per spiegare la sua posizione davanti per altri interlocutori più o meno analfabeti sul piano dell'informatica. Però il potere è sempre politico negli Stati Uniti, cioè dell'amministrazione delle istituzioni. In conclusione, perché davanti ad una mole così immensa di dati che serve a tutto ciò che ci siamo detti finora, gli analisti non sono tuttora in grado di utilizzarli fino in fondo come vorrebbero? Cioè l'obiettivo sarebbe attraverso i dati, cioè attraverso le miliardi, trilioni e trilioni di miliardi di informazioni che spontaneamente gli utenti forniscono, si potrebbe capire prima degli eventi dove va una società, perché se si è in grado di analizzarli si possono vedere quelle tendenze che anticipano poi i fatti. Perché questo ancora non avviene con perfetta corrispondenza? Perché? Perché gli analisti americani in particolare non dispongono dello strumento necessario per realizzare tutto ciò. Cioè spesso noi rivediamo, chi fa questo mestiere si intende concentrarsi su elementi accessori, ad esempio la parte elettorale, cioè vedere le tendenze elettorali che forniscono questi dati, questi megadati, oppure vedere le tendenze strettamente economiche. Ma per vedere ad esempio le altre tendenze, quelle che dovrebbero condurre all'aspetto strategico, ad esempio la parte puramente di interazione con le altre potenze, è già qualcosa di diverso, un compito diverso su cui ad esempio gli analisti faticano, perché mancano degli strumenti geopolitici per analizzarli, che erano quelli che vi dicevo prima. Cioè che cosa guardare? Il che cosa guardare nei dati è qualcosa di difficile definizione, che non può essere sottovalutato. Cioè quali sono i parametri su cui concentrarsi? I parametri su cui concentrarsi sono parametri eminentemente geopolitici, che uno deve conoscere, di cui deve discorre. Primo ho fatto degli esempi, attitudine alla maternità, che dice poi che tasso dell'ingiovanimento ha una società. Sappiamo che l'età mediana, cioè più bassa l'età mediana, più ha possibilità di fare la guerra a una società. Così l'atteggiamento nei confronti dell'immigrato anche segnala un atteggiamento, un'inclinazione importante di una società, nel momento in cui nei confronti degli immigrati si pensi di assimilarli o integrarli, perché assimilarli, a differenza dell'integrazione, significa poi condurli nelle forze armate. E o ancora, che disposizione al sacrificio, che disciplina sociale si rintraccia, quanto si sfilaccia una società, quanto è postorica, quanto è anziana, che ruolo ha la donna dentro la società, perché questo poi segnala anche che compattezza della società esiste o non esiste. Non solo il suo sviluppo è questo evidente. Spesso però, e mi avvia la conclusione, dei 30 minuti che avevamo concordato, spesso gli analisti americani, ma anche cinesi e russi, che comunque hanno dati molto inferiori, hanno quasi soltanto i dati riguardanti il loro paese, quindi come controllo del territorio, spesso questi analisti mancano degli strumenti che vi ho appena snocciolato e questo forse è qualcosa che può farci dormire la notte, almeno più tranquillamente, perché altrimenti se avessero avuto anche tutte quelle capacità avremmo dormito molto meno. E questo invece è un dato che può almeno consolarsi, non consolarci in un certo senso. Quindi, in conclusione, i dati sono un'enorme miniera, non tanto per l'intelligenza economica, quanto per stabilire attraverso di essi le tendenze di una popolazione, che prima devono essere rintracciati dall'intelligenza sul campo, rischiando puntualmente di morire o pagando moltissimo profumatamente gli informatori, e che oggi noi, in maniera ingenua, diamo totalmente a chi poi va ad analizzare, a miliardi e trilioni di miliardi di dati. Non a caso la divisione della presenza di social network in giro per il mondo è direttamente proporzionale a questo, a quel rapporto tra gli Stati Uniti e i loro antagonisti. Gli antagonisti degli Stati Uniti non hanno i social network americani, perché non vogliono che gli americani vadano a pescare dentro i loro server informazioni sui loro cittadini, a cui loro poi non avrebbero accesso. Qualcosa che a noi non ci interessa, infatti i satelliti degli Stati Uniti, infatti i social network americani ce li abbiamo tutti, indipendentemente, lasciando loro tutti i dati. Cioè, mediamente gli analisti americani, se avessero gli strumenti di cui parlavo, sarebbero in grado di capire molto prima dei politici italiani, molto prima degli apparati italiani dove va il nostro paese. Perché sono a disposizione di informazioni immense, spontanee, quindi non inquinate da un'imposizione, da una ricerca di tutti i cittadini. Se non, asterisco e chiudo, come detto, ancora non c'è quella sofisticazione, lo studiare il dato, ma non vuol dire che tra un po' non ci si arrivi. Io ho parlato esattamente per mezz'ora, quindi mi fermo qui, ma sono a disposizione, questo quarto d'ora, venti minuti, a disposizione dei vostri interventi e delle vostre domande. Grazie. Grazie mille. Io ti faccio subito una domanda e poi passo la parola anche a Gianluca, perché possa anche lui fare un intervento. Nel frattempo, se qualcuno ha anche altre domande, le può inviare, può anche alzare la mano per i presenti, così ci organizziamo. La prima domanda che ho ricevuto è una domanda molto semplice. Abbiamo nel tuo intervento sentito tante volte America, tante volte Russia, alcune volte, anzi tante altre volte, Cina, ma quasi mai la parola Europa. La domanda è che tipo di strategie, di ruolo può e deve mettere in campo l'Unione Europea per rivolgere un ruolo dal punto di vista politico all'interno di quello che è il processo del governo dei dati, non passando esclusivamente da quello che è la disposizione, ad esempio, della GDPR e della privacy, ma più in generale per una strategia di carattere unitario. Se sei d'accordo raccoglierei due o tre domande, così... Quindi non rispondo subito a questa, aspetto le altre. Direi anche quelle intanto... Certamente, intanto mi segno la tua. Perfetto. La mia non è lontanissima, cioè se per un attimo mettiamo Stati Uniti e Europa in un mondo più open, i social, Cina e Russia in un mondo più close, meno aperto, c'è un vantaggio reale alla fine posizionale in queste due diverse strategie, cioè tu ci hai fatto proprio capire come ci sia un'attenzione a un controllo di questi meccanismi, soprattutto sul social, ma alla fine c'è un vantaggio strategico o no, a tuo parere? Vantaggio strategico in cosa, scusami? Fra i due approcci completamente diversi, fra un approccio completamente close e completamente open. Chiaro. A te. Posso già rispondere a queste? Sì. Allora, sull'Europa, intanto vi ringrazio. Sull'Europa che cosa può fare l'Europa nella gestione dei dati? Beh, la norma sulle prime è un tentativo di ridurre la capacità per gli americani di pescare dai dati, ma è un tentativo estremamente labile perché poi comunque non va ad intaccare la gestione diretta dei dati, se non parzialmente, ad essere molto sinceri. Ciò che l'Europa può fare, devo dire che l'Europa non è un soggetto geopolitico, quindi non può fare niente perché l'Europa non è che esiste, non è che è una potenza, l'Europa è una struttura, è uno spazio economico e commerciale che ha delle posticce istituzioni che si fingono di uno Stato, ma lo Stato non c'è, quindi dovrebbe fare la guerra agli Stati Uniti, ma non esistendo come nazione è un po' complesso, quindi non può fare niente. L'Europa appartiene come influenza agli Stati Uniti, la Nato sta lì per quello, quindi non c'è niente da fare al riguardo, ciò che può fare l'Europa è soltanto una cosa, farsi pagare, ed è ciò che gli americani sono disposti a fare, è ciò di cui si discute, cioè volete avere tutti questi dati pagate in qualsiasi forma, che siano multe per posizione di monopolio, salatissime, o che siano semplicemente soldi spesi dall'amministrazione americana, dalle stesse multinazionali americane per accedere poi al mercato dei paesi europei. Di lì gli americani ci arrivano, sono disposti a pagare, perché comunque i dati sono talmente preziosi che vale la pena anche pagare per ottenerli, di più non si può fare. Qual è la differenza tra un approccio aperto e chiuso al riguardo? Ma in realtà gli approcci sono tutti aperti, mi spiego, i russi e i cinesi sono chiusi nei confronti dei social network americani, i social network propri, quelli autottoni, autarchici, sono sul territorio esattamente come quelli americani, ci sono aperti a qualsiasi tipo di informazione. Certo, ciò che non si trova nella censura, in una ricerca, sul motore di ricerca, o in un gruppo del Facebook cinese, diciamo così, ciò che non si trova è l'elemento che il governo considera di pura sedizione, cioè quello che è considerato come protesta evidentemente, ma per il resto, rendo conto che questo non è poco, ma per il resto gli utenti del social network cinese mettono dentro tutte le informazioni esattamente come le facciamo noi. Perché? Perché al governo cinese o russo, se sono governi autocratici, conviene poi pescare da queste informazioni. La differenza è che i soggetti antagonisti, dall'Iran alla Russia alla Cina, non lasciano entrare sul loro territorio i social network americani. In questo senso sono chiusi, cioè non consentono loro di entrare perché temono che, qualora fossero dentro, questi potrebbero utilizzare i dati a disposizione per formulare le loro analisi sulle tendenze delle popolazioni russa e cinese. E quindi evidentemente ciò che Pechino o Mosca, ma anche Teheran, potremmo continuare, non vogliono e non possono tollerare, per intenderci. Un'altra domanda collegata a un passaggio precedente è sui motivi per cui l'Europa accetta che, per quale motivo l'Europa accetta che i server dei social network non siano sul proprio territorio? Non dovrebbe essere una richiesta legittima? Riccino un po' all'esempio che citavi prima sul caso russo. Sai, l'Europa, l'Europa non esiste, cioè i resti dell'Europa esistono, l'Europa non è che c'è uno Stato europeo che decide qualcosa al riguardo, cioè qui parliamo di grandezze enormi, in cui se siete tu hai a che fare con una superpotenza che ha occupato lo spazio dei dati perché li gestisce. Davanti a un dato che considera, una superpotenza considera così importante, l'unico modo per toglierlo è sparare. Cioè, non so, la geopolitica, la realtà umana funziona così, la cosa più schifosa che esiste, ma non c'è un altro modo, non l'hanno inventato ancora, gli esseri umani sono miserabili così. Quindi, quando c'è un soggetto dominante, l'unico modo per sottrarre è finora da millenni e millenni a fare la guerra, ma tra l'altro non la puoi fare se non sei uno Stato. Non è che l'Europa accetta, è inerbe davanti agli Stati Uniti, altrimenti parliamo di una realtà che non esiste. Sì, c'è molto nella narrazione, ma è una bolla che ovviamente tende a finire perché poi davanti alle cause di vita o di morte non è che c'è l'Europa che tratta con la Russia la guerra in Ucraina, c'è Scholz che chiama Putin, c'è Macron che chiama Putin, c'è Biden che chiama Putin, ovviamente, come è normale. E su quel dato, il medesimo a cui facciamo riferimento, non è che l'Europa accetta, non ha altre possibilità. Ciò che può fare è farsi pagare. Io credo che possa essere una soluzione, peraltro l'amministrazione Biden ha segnalato di essere anche pronta a farlo, con diversi provvedimenti. È il massimo che si possa ottenere in questo momento, a meno che non si vogliano bandire i social network americani. I americani ad esempio hanno provato a bandire un social network cinese che rappresenta la differenza, perché se è vero che i cinesi respingono tutti i social network americani, ce n'è uno cinese di enorme successo che è TikTok, che spopola anche negli Stati Uniti e che è considerato pericolosissimo dalle autorità americane, per la stessa ragione per cui i social network americani sono considerati pericolosi in Cina. Cioè perché poi va a prelevare dati della popolazione americana, il studia e le tendenze. Ricorderete che un paio di anni fa, nei tempi dell'amministrazione Trump, TikTok voleva essere bandito da Washington. Poi non si è arrivati a questo punto, ma non è detto che non ci si arrivi in futuro. Questo è un esempio che si allaccia molto alla tua domanda. C'è uno Stato, una superpotenza, ovviamente, quegli Stati Uniti agisce in questo modo nei confronti del social network straniero, come fanno i cinesi e i russi a parti invertite. L'Europa, che non è uno Stato, non è una potenza, non può farlo. Altrimenti avrebbe già minacciato queste azioni, avrebbe già minacciato di bandire social network americani. Un'altra domanda che abbiamo ricevuto invece è sul tema della formazione e competenze necessarie per essere o diventare analisti. Sia nel 2022, così come fra 10, 15, 20 anni, insomma, nello sviluppo futuro di quelle che saranno le dinamiche di relazione e di quanto la tecnologia anche interverrà sempre di più nella lettura di questi fenomeni. Questa è una bellissima domanda, ma chiedo soltanto, analisti di che tipo? In che tipo di mansione? Perché ci sono analisti e analisti. L'analisi del dato? L'analisi del dato e delle tendenze? Dipende che tipo di analisi, per l'appunto. L'analisi a cui faccio riferimento io è un'analisi di tipo strategico. L'analisi del dato, in senso tecnico, bisogna essere degli ingegneri informatici essenzialmente, ma è un altro mestiere. L'ingegneri informatici poi non sa cosa fare nel dato, lo sa classificare, lo sa organizzare, lo sa riconoscere, ma poi lo sa analizzare, non è un umanista. L'unico modo per analizzare le tendenze umane è essere un umanista, non ce n'è un altro. Una preparazione scientifica non te lo consente. Quindi è impossibile. Se io devo capire dove va una società e non ho i parametri geopolitici, in questo caso la geopolitica è una disciplina umanistica, non ho i parametri per capire quali sono i dati salienti, mi concetto su dati accessori. Quindi l'unica preparazione che c'è è una preparazione in cui si incrociano le competenze umanistiche. Quindi è una forte componente storica, strategica, geopolitica e geografica essenzialmente. Che è qualcosa che nell'intelligence, anche come quella americana, è un po' MAC. C'è una grande preparazione spesso militare, un po' meno umanistica, infatti poi nell'analisi completa dei dati si fatica. Però è una domanda fondamentale questa che è stata posta. Mi auguro di aver risposto, ma insomma serve questo tipo di preparazione che poi trascende la tecnologia, perché poi le vicende umane sono identiche, anche se cambia la tecnologia. Ho invece una domanda da una persona presente qui in sala. Buonasera, la mia domanda è la seguente. Quali sono i rischi che lei intravede in questa mercificazione quasi irrefrenabile dei dati personali, non solo nelle prospettive future, ma anche nell'immediato. La sottodomanda poi è, può esserci secondo lei un modo per inserire in un alveo più ristretto questa gestione di dati in modo tale che sia, ora non vorrei dire etica, ma insomma quantomeno accettabile? Grazie. Cioè, secondo lei quindi, quale potrebbe essere una soluzione che lei vede all'orizzonte per gestire in maniera più etica, ad esempio? Ah guardi, saprei bene, però forse porre... No, perché il punto che lei tocca è veramente molto importante, per questo glielo chiedo. Io sarei per una legislazione molto più stringente, però sappiamo bene che in abito internazionale insomma le legislazioni stringenti valgono quello che valgono e soprattutto gli interessi economici, per quanto sia magari poco piacevole dirlo, spesso hanno un po' la meglio, mettiamola così. Insomma, tutti gli interessi strategici, quando si gratta di... le grandi potenze non ragionano in economia, questo lo fanno i satelliti, cioè l'Italia, infatti è un paese economicista e crede che tutti i paesi ragionano in economia, le grandi potenze vivono di potenza. Lo stiamo vedendo anche in Ucraina, lo vediamo nelle guerre in cui si cacciano gli americani senza alcun tipo di senso e senza alcun tornaconto economico. Una gestione più etica, lei ha molto ragione, sarebbe assolutamente auspicabile. Il punto è che nel momento in cui arrivasse una gestione più... se è più etica ce la possiamo fare, totalmente etica, a mio avviso no, una gestione totalmente etica dovrebbe privare le società che gestiscono i social network del monopolio sui dati, della gestione dei dati e quindi non avrebbero più queste società un interesse a stare aperte, a tenere sulla sala cinesca e quindi chiuderebbero, perderemmo l'accesso ai social network che evidentemente adesso è ancora indispensabile per tutti noi, oggi non potremmo vivere senza i social network per essere obiettivi, proprio come facilità di comunicazione. Quindi per questo dico la sua domanda è fondamentale, dovremmo trovare un punto di equilibrio nel gestire in maniera più etica, come lei suggerisce, sono ampiamente d'accordo i dati e la possibilità che comunque i social network rimangano operativi. Ripeto, una gestione totalmente etica vorrebbe dire spingere fuori dal mercato le società che poi gestiscono e hanno prodotti i social network. Grazie. Abbiamo anche ancora un'altra domanda che è arrivata, insomma sempre da remoto, sul rapporto fra la geopolitica e la teoria dei sistemi complessi, ovvero quanto la geopolitica sta in sistemi complessi alla ricerca di una legge generale sul funzionamento dei sistemi tecnosociali? Questa è interessante, insomma, sì, possiamo utilizzare questo tipo di parallelo, più o meno. Diciamo che la geopolitica si interessa soprattutto, a me la parte sistemica interessa sempre meno, devo essere sincero, la geopolitica non deve avere in testa essenzialmente un sistema, perché il sistema poi può portarci fuori strada, perché poi diventa modello. La geopolitica prevede una parte di irriproducibilità e questa è la differenza da un approccio comunque scientifico come quello che viene citato. Perché? Perché la parte epistemologica, cioè quindi il metodo per eccellenza della geopolitica è calarsi nell'occhio degli altri, quindi stabilire di vedere il mondo con gli occhi degli altri, senza giudicarlo a prescindere, abbandonando quella che è una versione dicotomica dei rapporti. La geopolitica si studia le aggregazioni, non si occupa di individui, almeno non dovrebbe farlo se è geopolitica vera, e quindi lo fa calandosi nella mentalità dell'altro. Questo però la rende poco sistemica, se non nel suo embrione, nella parte iniziale. Quindi una differenza notevole c'è da questo punto di vista, altrimenti il parallelo che si fa è affascinante. Grazie. Io a questo punto mancano pochi minuti, credo che condividano tutti se li proviamo a utilizzare per provare a scendere a pieno in quello che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore. E quanto anche questo tema del governo di internet passi attraverso le strategie che si stanno mettendo in campo per provare da parte, ad esempio, del governo russo a reimpossessarsi dello Stato ucraino. Ma dall'altra parte soprattutto anche per cercare di capire quanto e come dal governo della rete possa passare anche la capacità di riuscire a leggere la realtà. Perché uno dei primi problemi che abbiamo avuto in questi giorni, sicuramente avremo anche nei prossimi, sarà leggere insieme la realtà e farlo attraverso proprio anche quanto attraverso internet passa e ci arriva. Mi intervengo io? Sì. Ah ok. Beh sì, siamo davanti ad una guerra che ci pone, come sempre, la difficoltà di interpretare ciò che accade anche nei social network, perché al di là della gestione dei dati, quindi dell'interpretazione delle tendenze c'è proprio un enorme strato di propaganda, come sempre in tutte le guerre, no? Si sa bene perché oggi la propaganda si chiama fake news, non stabilito che si... tanto è cacofonico da morire ma va di moda, non ci facciamo mancare niente. Le notizie false sono semplicemente propaganda, ci sono sempre state, non hanno niente di nuovo. E in propaganda, in guerra è la cosa più normale che ci sia. Oggi ad esempio quasi tutto ciò che si legge sui social network è propaganda, ma anche in propaganda in genua, attenzione, non è che c'è un cuplotto dietro, si diffonde una notizia, qualcuno non ha gli strumenti né intellettuali né tecnici per verificarla, la rilancia ingenuamente e diventa una notizia. La propaganda funziona così essenzialmente. Aggiungiamoci anche qualcos'altro, c'è anche una questione di testimonianze della guerra. Questa guerra stiamo assistendo ad un'enorme differenza di testimonianze tra i soldati ucraini e quelli russi. I soldati russi sono partiti in guerra senza smartphone, il governo russo non ha voluto che i soldati lo avessero con sé, mentre ce lo hanno i soldati ucraini. Si capisce bene perché il governo russo non ha consentito, soprattutto perché non fossero intercettati, questa è una ragione tecnica, la possiamo capire, perché poi i loro movimenti fossero facilmente intercettati dal nemico. Ma in un contesto così, insomma, essere intercettati sul piano del movimento mi sembrava il male minore. Poi abbiamo assistito infatti a quelle scene per cui qualche militare russo catturato non aveva la possibilità nemmeno di chiamare casa perché non aveva con sé un cellulare. Ci sono queste immagini che sono a loro volta propaganda, che fanno vedere ovviamente gli ucraini che aiutano l'aggressore e comunque compiono un gesto nobile nel momento in cui lo fanno, che gli passano il telefono e lo fanno chiamare casa. Quindi non solo è difficile in una guerra come questa stabilire quali sono le fonti accreditate e credibili, perché la propaganda è ovunque, cioè ovunque è tempo di pace sui social network, cosiddette fake news, cioè semplicemente per le notizie false che per ignoranza o dolo si rilanciano, figurarsi in guerra. A questo si unisce anche una testimonianza che è parziale, che è la più nobile, cioè quella della potenza aggredita, cioè l'Ucraina, ma che non ha nessuna versione da parte dei russi, perché ripete, sono stati russi, sembra peculiare, ma certamente interessante. Nel 2022 non è stato consentito di andare in guerra con gli smartphone, quindi sono senza telefono, un po' come poteva capitare trent'anni fa essenzialmente. Io allora ti ringrazio con quest'ultima domanda, insomma chiuderei quest'ora che... Io ringrazio voi, mi scuso, sarei voluto essere molto volentieri lì con voi oggi, mi auguro se ci sarà occasione la prossima volta di essere assolutamente di persona, avrei preferito il contrario, sinceramente. Ci devi promettere, sperando che questo si possa fare presto, per le ragioni che possiamo immaginare, di poterci poi rivedere fisicamente qui a Modena. Se mi invitate, se mi invitate assolutamente sì, a disposizione, molto volentieri. Ti inviteremo assolutamente, speriamo che si possa fare in un contesto... E sono contento. Sarà impegnata anche da altri argomenti. Sarà meno impegnata, mi auguro. Grazie ancora a te. Grazie a te, a presto. A voi, buon lavoro, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.